Ciac, non votare. Ma fa c***o! Io ho che mandare mail da Facebook e per carità sarà pure moderno però insomma visto che la cosa mi scuote personalmente se sono realmente mie amici ho detto oh Belli sveglia e quindi insomma li stimoli in questa maniera. E' una cosa seria, io non andare a votare nel senso che non bisogna andare a votare, cioè bisogna andare a votare per non...